Oggi parleremo di una fotocamera che è stata sulla bocca di tutti per un sacco di tempo e io stesso sono stato molto indeciso se acquistarne una oppure no. Ho per le mani una Canon EOS R6. Devo dire che la macchina si presenta molto bene, è molto bella. La prima cosa che andiamo a esaminare è che c'è chiaramente la tendina di protezione del sensore, questa è una delle cose che mi chiedete più spesso, io poi me lo dimentico tra i vari modelli. Qui c'è la tendina di protezione, cosa per molti essenziale. Come mai mi trovo in possesso di questa fotocamera? Semplicissimo, perché con le fotocamere in mio possesso non riesco a fare sempre tutto e per un lavoro in particolare che mi hanno commissionato ho deciso di dotarmi di qualcosa di un pochettino più prestante in maniera tale da portarmi a casa il lavoro in soltezza, senza fare fatica, senza dover sudare ogni minuto perché la mia strumentazione magari fa fatica a stare dietro. Quindi ho preferito noleggiare qualcosina di un pochino più prestante per lavorare sereno, per consegnare il lavoro senza dover stare a sudare sette camicie. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia ma anche di video e oggi andremo a vedere come ho impostato Canon EOS R6 per il lavoro video che devo svolgere. Mi piacerebbe moltissimo farvi una recensione completa con la macchina in mano, ma purtroppo non sarà possibile perché l'ho noleggiata per un periodo di tempo limitatissimo e quindi faccio appena in tempo, oggi che l'ho ritirata, a farvi questo contenuto su come l'ha imposto, visto che lo devo fare comunque prima di andare a fare il lavoro, non credo che avrò il tempo di metterci mano ulteriormente perché la dovrò riconsegnare subito, quindi una recensione più approfondita dovrà eventualmente aspettare e potrò raccontarvi sicuramente la mia esperienza ma non avrò più la macchina in mano. Ne approfitto quindi per dirvi due cose sulla macchina adesso che ce l'ho in mano. Innanzitutto doppio card slot, quindi qui abbiamo la doppia SD, una cosa che è uguale sulla mia R7 che sto usando in questo momento, quindi da questo punto di vista niente da dire. Abbiamo il joystick che è caro a moltissime persone, io non lo amo, credo che non lo userò. Io credo che userò il display perché una cosa che vi devo dire, nonostante io sia fan delle cose vecchie, analogiche quasi, però devo dire che su questo tipo di macchina, soprattutto se faccio video, io trovo molto comodo utilizzare il display touch, visto che c'è. Abbiamo l'ingresso microfonico, abbiamo l'uscita cuffie per monitorare l'audio, importantissima, io farò monitoring durante le riprese video che devo effettuare così mi assicuro che l'audio sia pulito prima di tornare a casa e trovarmi brutte sorprese. Una cosa che mi piace un sacco rispetto a Canon EOS R in mio possesso, hanno tolto il display qui sopra che, sì, serviva, ma non così tanto, e hanno rimesso invece la rotella con i modi di esposizione. Io preferisco di gran lunga questo sistema così posso selezionare quello che voglio e anche a camera spenta vedo com'è impostata e quindi quando l'accendo non ho sorprese, so esattamente come l'ho lasciata. Che dire, una macchina secondo me molto bella, molto completa, l'ergonomia mi piace moltissimo, come potete vedere arrivo benissimo al joystick e arrivo benissimo al pulsante per far partire la registrazione video. La macchina casca benissimo in mano nonostante sia una mirrorless, vedete che la mano casca giusta quindi non è troppo piccola. In effetti la mia mano è un pochino più grossa ma non è fastidioso e comunque con un battery grip si risolve definitivamente il problema. Ma ora andiamo ad accenderla e vediamo come la vado a impostare per registrare video. Quello che vi faccio vedere, ve l'ho già fatto vedere anche su altri modelli, andiamo un pochettino a ripetere per questo modello specifico, è come io la imposterò per fare delle riprese video in studio. Quindi un contesto abbastanza statico dove dovrò semplicemente riprendere una persona che parla. Molto bene, ma ora possiamo andare ad accendere la macchina per andare a vedere appunto come impostare il suo menu. Ovviamente la prima cosa che faccio è assicurarmi di essere in modalità video perché io andrò a registrare quasi esclusivamente video con questa macchina. A questo punto vado a premere menu e qui sono sul menu custom che forse aveva usato qualcuno prima di me. Andiamo dall'inizio, modalità di scatto e io qui voglio ovviamente esposizione manuale, quello che faccio sempre su tutte le mie macchine. Qualità registrazione filmato, andiamo un po' a vedere che possibilità abbiamo e qui siamo sicuramente in modalità PAL. Io non voglio stare in modalità PAL, voglio NTSC e oggi faremo una cosa che normalmente non faccio. Andiamo a vedere dov'è il formato, dove diavolo sei? Eccoti qui, eccoti qui, sistema video NTSC. Lingua, sapete che c'è, la lingua questa volta ve la lascio in italiano perché questa macchina non è mia, quindi ci sto mettendo mano per la prima volta e lasciamola così, facciamo che la lasciamo così per questa volta. Volume cuffie, questo lo regolerò domani, per adesso mettiamolo a metà, lo regolerò in base a quello che sentirò con i microfoni. Ora che abbiamo impostato NTSC vedete che qui la questione è completamente diversa, adesso qui ho dei formati diversi e in particolare a me quello che interessa è 4K 2997 leggera. Posso usare la leggera in questo caso perché questo è un contenuto che non ha velleità cinematografiche, quindi non mi serve il formato della massima qualità possibile. Posso andare a utilizzare questo formato che quindi probabilmente sarà un po' più leggero. Registrazione audio, ovviamente qui la dobbiamo andare a mettere manuale e dovremo andare a impostarla, vedete qui sta già clippando, quindi io dovrò andare ad abbassarla in maniera tale che non clippi più, ma questo lo vedremo in base ai microfoni che gli collegherò. E questo è tutto per quanto riguarda questo primo menu, procediamo con il secondo, compensazione e esposizione non la useremo, impostazioni sensibilità ISO, io credo che andremo a usare ISO 400 o ISO 800, io lo lascio già così. La gamma la lasciamo così, questo va tutto bene così, impostazioni HDR le lasciamo off, questo lo lasciamo off, priorità tonalità chiare lo lasciamo off, incrementi di un ottavo di stop sulla priorità di diaframmi, questa non so nemmeno che cosa faccia, la lasciamo assolutamente off. Bilanciamento del bianco lo imposterò in macchina domani, ma credo, credo che potremmo essere sui 5600 Kelvin, impostiamolo già che male non fa. Ora stile lo lasciamo, standard impostazioni Canon Log, tenete conto che io questo non lo userò, però ve lo faccio vedere lo stesso, nel momento in cui lo vado a impostare e gli dico Canon Log sì, gli posso dire assistenza visiva sì e quindi vedrò il mio log già colorato a monitor in maniera tale che capisco un po' meglio quello che sto facendo. Caratteristiche, intensità, saturazione, tono, allora intensità io vi dico francamente che lo metto a metà perché non ho voglia di dover correggere la nitidezza in post, non ho voglia, ho visto che questo mi dà il risultato che mi serve grosso modo e quindi lo imposto già così, così devo fare meno fatica dopo. BT709 a me andrebbe bene, se vogliamo il massimo ovviamente impostiamo Cinema Gamut, che è il profilo più bello disponibile su questa macchina per il profilo Log, questo è quello che faremmo se lo andassimo a utilizzare, ma io non lo userò, quindi adesso lo vado a mettere off. Chiarezza lo lasciamo così, questo non ci interessa, correzioni, aberrazioni, obiettivo, qui io vedo che ci sono delle cose on e vi dirò che in questo caso le metto tutte quante on perché dovendo fare video, queste mi agevolano nel processo perché non dovrò fare queste correzioni su un video potenzialmente anche lungo e anche pesante. Riduzione disturbi alta sensibilità ISO su una macchina come questa io credo che lo lascerò standard, così anche questo mi agevola un pochino, devo fare meno post produzione per eliminare un rumore indesiderato. Filmato HDR no, timelapse no, non ci interessa, autoscatto filmato niente, telecomando niente, stabilizzazione IS, io questo lo tolgo e lo tolgo per un motivo semplicissimo perché utilizzeremo questa fotocamera su tre piede, quindi sarà una ripresa statica, per cui consumare batteria andando a utilizzare stabilizzazione non mi interessa proprio. Foto pulsante di scatto per filmati, questo è interessante perché se il pulsante per avviare la registrazione video fosse in una posizione scomoda possiamo abbinare una funzione allo shutter, qui se io premo a metà corsa ho la misurazione di autofocus in modalità servo, se io vado a premerlo a fondo gli posso dire di avviare la registrazione, in questo caso lo faccio perché mi torna comodo. Impostazioni Zebra, li ho già visti credo nel mio video in cui parlavo di Canon EOS R o di Canon EOS R7, comunque in questo caso io non lo uso perché la Zebra è una cosa che io utilizzo quando sto girando in log, quando giro con un profilo colore standard non mi serve, utilizzo l'esposimetro, utilizzo il cartoncino di grigio e sono a posto così. Mostra info sullo scatto, questo diciamo che non ci interessa, formato visualizzazione mirino, la prima perché voglio vederlo intero, stand by bassa risoluzione ok, questo è tutto ok. Ora per quanto riguarda l'autofocus io voglio andare a impostare l'autofocus con inseguimento e voglio il rilevamento occhi perché sto filmando delle persone che parlano, una persona che parla per volta oltretutto, quindi questa è una cosa che mi aiuta a tenere a fuoco il mio soggetto. Soggetto da rilevare persone, animali, veicoli o nessuno, io qui lascio persone perché saranno solamente delle persone. Eif servo filmato attiva, questo significa che la mia fotocamera andrà a mettere a fuoco automaticamente in modalità video, impostazioni, tocco e trascinamento EF, io questo lo attivo, non credo neanche che lo userò però lo lascio comunque attivo e lo lascio attivo sul pannello intero, di solito faccio così. Peeking, questo serve se andiamo a mettere a fuoco in modalità manuale, non mi serve, non lo userò quindi non lo sto neanche a impostare, questa volta non mi serve. Velocità EF servo filmato, dunque qui abbiamo, credo che abbiamo uno standard impostato dalla casa, in questo caso io lo lascio tutto così perché è una ripresa molto facile, è una ripresa, è una talking head, cioè sono persone che parlano su uno sfondo neutro quindi sono molto tranquillo e lascio tutto così come limita metodi di autofocus. Allora io qui non li limiterò perché questi possono servirmi tutti tutto sommato, io qui posso andare a premere questo bottone, il bottone autofocus e vedete che mi compaiono tutte le modalità di autofocus che posso andare a impostare, qui posso andare a sceglierne una piuttosto che l'altra, le lascio tutte, non vado a limitare il mio metodo di messa a fuoco perché potrei volerlo cambiare, in questo modo posso cambiarlo velocemente. Qui come potete vedere con il bottone info posso anche decidere se mettere a fuoco sull'occhio oppure no e se lo vado a togliere ovviamente metterà a fuoco solamente sul viso senza più cercare l'occhio. Queste sono tutte opzioni che non vado a toccare, andiamo a vedere, queste sono tutte cose standard che credo che non toccherò neanche, no, confermo qui non toccherò niente, bluetooth non toccherò niente, numerazione file consecutiva, formata card lo farò prima di cominciare, la data vedo che è già impostata, vediamo che ore sono, 20 e 38, sì è anche giusta l'ora, lingua italiano, qui abbiamo detto questo lo lasciamo tutto così, modalità eco niente, otturatore allo spegnimento, ovviamente chiuso, noi possiamo anche impostarlo per rimanere aperto, ma invece lo imposteremo su chiuso come è già impostato, pulizia sensore adesso non ci interessa, qui il firmware, l'infobatteria eccetera non ci interessa, fatemi vedere una cosa, livello carica 87, secondo me questa schermata sottovaluta sempre il livello della nostra batteria perché a me dà sempre rosso addirittura, eppure le mie batterie sono in ottimo stato, incrementi livello esposizione velocità ISO io qui l'ho imposto su uno stop perché preferisco e qui credo che non toccherò nient'altro, potrei impostarmi dei pulsanti personalizzati ma veramente non ne ho bisogno per quello che devo fare, ci sono solo un altro paio di cose che potrei andare a vedere, ovvero compressione audio, io la voglio off perché farò delle cose in post ma non la voglio già qui direttamente in camera, rilascio l'otturatore senza obiettivo off e qui siamo arrivati al menu custom quindi direi che non c'è altro da fare, la nostra fotocamera o in questo caso videocamera così è pronta a scattare, è pronta a lavorare per me. L'ultima cosa che possiamo andare a dirle sono i parametri che andremo a utilizzare, quindi visto che stiamo scattando con un frame rate di 29,97 frame al secondo gireremo a un sessantesimo di secondo, adesso non c'è nessuna lente attaccata quindi vediamo F0, andrò a impostare un diaframma che mi permette di lavorare bene, dipenderà dall'illuminazione e dalle dimensioni dello studio ma probabilmente sarà un diaframma molto aperto e quindi è possibile che dovrò usare un filtro ND per diminuire la luminosità in camera. Ad ogni modo ve lo racconterò perché sarà uno shooting credo molto molto divertente. Bene amici avete visto come io imposto normalmente una fotocamera di questo tipo? Questo è un lavoro normale quindi non devo fare particolari magheggi di color correction o di color grading è un video che verrà utilizzato così come esce dalla macchina, quindi io andrò semplicemente a impostare il formato video che mi serve e andrò a registrarlo in maniera consona, in maniera tale che abbia la resa desiderata dal cliente. A questo punto vi chiedo fatemi sapere nei commenti, avete questa macchina, vi piace, vi interessa, state pensando di acquistarla, siete indecisi tra questa e la Mark II, siete indecisi tra questa e la R8. Personalmente anch'io sono molto indeciso, prima o poi credo che una di queste macchine mi cadrà dentro nel carrello della spesa, potrebbe essere questa, potrebbe essere la R8, chi lo sa lo scopriremo. Fatemi sapere nei commenti voi per quale modello propendete oppure se state usando Fuji, cosa che capirei perché sono delle bellissime macchine. Ci vediamo nei commenti per parlarne, vi ricordo di iscrivervi al canale così seguite eventualmente le conversazioni a cui io ogni tanto rispondo con dei video verticali. Vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.